Oggi abbiamo ricevuto con grande piacere il messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale del malato che celebreremo l'11 febbraio del prossimo anno. È un momento in cui tutta la Chiesa si raccoglie intorno alle persone sofferenti e alle persone in difficoltà e celebra la misericordia di Dio che va incontro ai nostri fratelli più sofferenti e più disagiati. Nel messaggio del Santo Padre ci viene ricordato il tema di questa giornata mondiale che recita così Mater Ecclesie, ecco tuo figlio, ecco tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Il testo è preso dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19 e ricorda il momento in cui Gesù, sofferente sulla croce, affida tutta l'umanità a Maria e costituisce Maria madre di tutti gli uomini. In questo passaggio la Chiesa ricorda tutta l'umanità, soprattutto la parte più sofferente e la affida a Maria. Nel messaggio che abbiamo ricevuto dal Santo Padre tutto il mondo della salute, tutto il mondo della sanità, tutti coloro che si occupano dei malati sono invitati ancora una volta a mettere al centro del loro percorso la persona umana che diventi fondamentalmente centrale nel processo terapeutico e invita tutti a svolgere anche la ricerca scientifica nel rispetto della vita e dei valori morali e cristiani. Ci sono dei richiami molto forti, molto molto forti in questo messaggio a tutti coloro che nel mondo anche della Chiesa si occupano di salute e di sanità. Anzitutto il Papa celebra la lunga storia di servizio agli ammalati che è un motivo di orgoglio per tutta la Chiesa, la generosità fino al sacrificio totale di molti fondatori, ma suggerisce anche una nuova creatività che parte dalla carità da tante iniziative intraprese nel corso dei secoli. In questo passaggio il Papa ci chiede di preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell'aziendalismo. È un rischio che tutti corrono nel momento in cui le decisioni, le analisi e i processi vengono valutate in base al risultato economico. Il Papa ci ricorda ancora che la cura passa attraverso una visione integrale della persona e quindi nella sua integralità e nel rispetto della piena dignità della persona noi dovremo orientare le nostre scelte e i nostri percorsi terapeutici a partire dalle nostre strutture sanitarie. Ancora il Papa ci chiede che l'intelligenza organizzativa e la carità esigono che la persona del malato venga rispettato nella sua dignità e venga tenuta al centro del processo di cura. E poi c'è un richiamo fortissimo. A partire dalle comunità parrocchiali la pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura. Il Papa ricorda ancora la tenerezza e la perseveranza con cui tante famiglie seguono i propri figli, i genitori, i parenti, malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore per la famiglia, per la comunità cristiana e per la società intera. Il Papa chiede che queste persone siano sostenute con un adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. È un invito a tutta la comunità cristiana, a tutta la Chiesa, a prendersi carico delle più grandi fragilità ed essere sempre più una comunità sanante che si rivolge direttamente ai propri bisogni e alle persone che più sono in difficoltà.